salve a tutti e siamo ritornati di nuovo su fall guys qui sempre con devil trigger la rapadawan e leni rusu ciao ciao a tutti ciao ciao a tutti ciao dev ciao lara ciao l'anno siamo ritornati in questa copp vabbè sarà una copp un po più lunghetta rispetto ai video che postavate voi sul canale la copp sei tu chi può che se la nostra partitona quando siamo in 3 si si vediamo cosa riusciamo a combinarsi allora scegliamo vada vada volete fare il round dei creatori sì sì lei scelga quello che vuole noi ci adattiamo ok fatto pronti pronti vanno sendo mando ma il romano rainbow dash 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 il dash è il detenzivo giusto e basta questa pubblicità tra l'altro la casualità che io oggi ho comprato il sole ma pensate è un sole di dash oggi io l'omino bianco e siamo a posto ma oggi cosa avete mangiato voi a pranzo si può dire si vede dal mio abbigliamento la piadeina la piadeina la piadeina la piadeina io dalla mia skin si capisce che ho mangiato formaggio e fragole buono mazza abbinamento particolare ma siamo solo noi hanno c'è neanche un altro questa mai mai vista non vale nooo qua mi sa che non usciremo vincitori no 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 porra no 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 mi devi devi andare con convinzione no non va con convinzione per niente ma come si saltano le nuvole anche lei si trova in difficoltà no 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 dove devo andare ma dove devo andare non ho capito dove devo andare no non lo so neanche io ma vaffan cuore ok no ci sono check meno male no ma dove sto andando ah ma le nuvole sono cioè si si salta sulle nuvole ah è complicato ammazzate un vedi un vedi un vedi il raybow six non no non quel raybow six no no ma no ma è troppo lontano ma come faccio ad arrivare dove dobbiamo andare è lì yuhuu no ah forse devo prendere un po' di spinta ma vaffan cuore ma vaffan cuore oh ok ma guarda dove sono finita ah sono sull'arco d'aleno e ma 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 dimmi Deo cioè sono tornata indietro complimenti grazie era arrivata su su in cima ahi no ma wow ok bello no volevo andare lì ancora aspetta 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 no non cadere cogliona il nostro compagno sarà arrivato non so neanche chi è il nostro compagno ma perché abbiamo un compagno io no ma come si fa ad arrivare in questo percorso è qualificato watch warrior no ma eh cioè ci danno anche un tempo dobbiamo restare qua fino alla morte no ci danno il tempo ah ok a una certa capiscono che siamo che non c'è più niente da fare no 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 che siamo un caso senza speranza no 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 dai ce l'avevo fatta no 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 ma ci siamo solo noi a giocare eh mi sa di sì ma pensa te no mentre poi ancora si è qualificato noi io pure adesso dai siamo rimasti solo noi due su 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 ma chi l'ha fatto sta no ma dai ma non riesco ma Delmo le sei fregate da solo rimani là ma lei come ha fatto eh ho fatto tanto bene ci svegli i suoi segreti dai dai forza forza fagiolo vai scendi avanti no non riesco scendi occhio bordo e che devo fare l'ultima attento che c'è il buco dai dai elenna che ce sei eh ma non riesco a passare questo pezzo qui ti tuffi eh non riesco a tuffarmi l'ho fatto 200 volte non c'è verso di tuffarmi dai crediamo in lei sì mi sa che facciamo prima uscire ma no questo finisce eh qui c'hanno le corone quando arriva lo spiego si tuffi oh ok mi ha dato la botta dai attenzione qui attenta attenta metti di sopra metti di sopra sì aspetta metti di sopra e poi devi saltare sul percorso arcobaleno ah ok no no buttati non prendere il check no 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 buttati buttati così cominci a lavorare sopra ok qua dov'è che devo buttarmi ah qua attenzione attenzione salta 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 vai 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 attenzione vai su una pedana aspetta aspetta poi vai sull'arcobaleno questo qui a sinistra 28 secondi vai segui 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 scendi bordo 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 ultima ultima porta bordo bordo attenta che c'è il buchetto quindi salta e poi risalta bravissima dai dai sono stata anche guidata dai è così guarda che meraviglia e vanno a vincere è stato difficile ma ce l'abbiamo fatta e vanno a vincere eh non esaltarti così tanto perché non c'è niente di cui esaltarsi ma come no sì ma no è il mio fagiolo esagio sì oh quanti punti gli ultimi saranno i primi sì a volte olè dai oh equipaggia subito sì sì eh vuoi non mettere equipaggia subito guarda che roba va allora io farei un classico io ho preso una cosa rosa che è una cosa veramente indecente non la metterò mai eh non la metto non la metto la cosa rosa no no perché riguardi guardi va che roba gli occhiali ecco gli occhiali con il fulmine rosa cioè io boh mi consinta posso cambiare colore immagini a squadre siamo è un classico a squadre perché giusto giusto per non stare in difficoltà il suo cappello a formaggio è bellissimo comunque non so dove l'ha trovato l'ho pagato caro eh l'ha pagato immagino immagino uh questo questo mi piace tantissimo un po' meno a Lara si impegni mi raccomando eh questo io eh seguirò lei seguirò lei sì ecco le porte le sparaflescio tutte no è che qua le porte si si chiudono e si aprono e sono i pendoli bisogna stare attenti eh sì hanno aggiunto questa cosa oh ma chi è che mi trattiene ma bastardo no penso no no oh eh ma allora ce l'avete con me bastati ma dai signorina ma si sposti ma ma io dico poi c'è gente che ma qua ma io veramente non ho parole che sente non ho parole ho preso una passata non sapevo che finiva così aiuto ho riscato no sì no no non ci siamo unificati ma come ero pure arrivata dovreste vedere come ho finito io in volo sì io ovviamente non sono arrivata eh che devo fare ho proposto del nostro compagno sì beh sicuramente allora io sono pronta eccomi eh questa era una prova ah facciamo un'altra volta la stessa facciamo un'altra volta la stessa no ma magari non capiti lo stesso non penso che capiti lo stesso gioco perché non ci sono altre mappe cioè ci sono quelle fatte dai creatori eh beh potremmo fare quelle sono più facili non tutte sono facili ci stanno quelle difficili noi facciamo solo quelle facili oh circuito frigorifero mamma mia che antipaticità e che preferite questo madonna io ero arrivata prima comunque faccio notare qua ci sono le palle di neve questa ceppa eh adesso non si vanti voglio dire ma io mi devo vantare per una volta che è arrivata io mi vantare per una volta ma io ma dico io eviti le palle di neve mi raccomando ma questi mi vanno in galera sono vicino a Ryu nooo ma come hai fatto a sfuggire Melen eh perché stavo guardando Ryu che è nostro compagno credo si è nostro compagno dai forza si si chiamava Ryu vero non sto sbagliando nome a sto poveraccio ma perché ti fissi sul nome ma pensa a vincere perché mi dispiace ho giocato a Street Fighter una vita se mi dimentico i nomi dei protagonisti mi spiace ma io non so nooo ma tu dimmi sono finita sotto con Dev ho visto ho visto volare proprio è anche lei è qui vede che l'ha giunta l'ha raggiunta ma è stata tutta colpa sua ferma aspetta vai il volo l'ho raggiunta no ma è stato bellissimo vederla ma che cazzo è ma io dico beh io mi dissocio da questa squadra nooo ma che pizza però io ero arrivata io ero arrivata però mi state impedendo guardatela lei che crea il caos e poi rimane indietro mi state impedendo di vincere io lo so ma io guarda ma guarda ma io comunque stavolta è colpa di Lara se ne veramente manda io buono ho parole ma lei vuole fare il trenino mi scusi ma se devo che mi trattenete maledetti fantastico oddio mal di pancia mamma mia è stato fortissimo vedere Len che andava mi ha spinto lei mi ha spinto io ma quando mai ma quando mai ok cosa ha scelto lei spiral magari questo è difficile e non riuscivo a vederlo si vabbè non riuscivo a vederlo stava coperto dalla parte ma io dico boh spirale dello sconvolgimento sconvolgimento a spirale no siamo ancora in quattro questo significa che io arriverò come ultima ruota del carro no eravamo in primo sarà difficilissimo no siamo quattro giocatori tre su quattro quindi ci abbiamo oh mio dio ma che cazzo chi è l'altro ne manca uno però me lo diceva quattro no 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 chi vencerà tra i tre no ma porca no dai ma non è possibile c'è c'è sono ancora qua va bene ma devo prendere il martello eh mi sa di sì sì invece sì ok ma io sono ancora all'inizio ma come no no lì no maledetto eh questo è impossibile sì questo io già l'ho fatto mi pare eh ma dai eh ma sì ma è troppo veloce ma dai ma chi è che ha fatto questo no questa cosa chi si è cimentato a fare questo percorso infame c'è sopra il nome vabbè ma io sono quello all'inizio regalo è impossibile sì ma io tanto non passerò mai questo pezzo quindi non c'è problema ecco appunto cioè sto da talmente tante facciate non riesco proprio a passare io oh vabbè eh no non ce la faccio no eppure una volta mi sono riuscito oh io ho fatta almeno ricomincio da qua messi i martelli no ma perché perché ma se già c'ho problemi qua poi come faccio a passare oltre vorrei sapere grazie grazie se riesco per culo a fare no checkpoint adesso se passa questo come se niente fosse eh questo so io eh o io ma no questo nel senso questo pezzo è passata io la odio sì cioè è detto proprio decore no no bastarda di una ventilatura una ventilatura no ma pure i ventilatori no però dai noto che siete indietro guardi eh ma vaffan cuore vaffan cuore dei tre quarti della malazzina tua dai che è facile e non ce la faccio eh certo te sei arrivato per bucio te culo mo' è facile mi rimane difficile mo' è facile quando ci sono le skill sì vabbè vai eh io ho fatta miracolo almeno ho passato un check no ce l'ho caduto vedi 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 no 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 peccato affalgaggio vedi affalgaggio ma io vorrei sapere cioè finisce ad un certo punto ma vaffan cuore ma vaffan cuore ma senti io volevo passare qua provo a passare qua e si lancia e ma dove quale ficchetto no 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 e qua no ma dai adesso un'altra ora e mezza per fare questo pezzo su ma dovete farlo di corsa eh non riesco ma senta lei non dia consigli per cortesia eh perché io ce la mando ma proprio diretto eh vediamo Lara ho preso una testata dai dai Lara checkpoint ah questo va indietro ha fatto ti tuffi prende il martellonzo no 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 che poi fa lo stro non ci credo no ma da qui ma dai ma adesso che stiamo qua un'ora e mezza io mi sto anche rompendo un po' le balle ti applichi no ma dai ma dai ma dai ma nemmeno Super Mario mi fa incazzare così oh allora aspetta eh qua mi sa che oh yes yes oh allora adesso organizziamoci eh no di là non passo assolutamente attenzione alla palla urca ma sta palla che merda ce l'ha fatta mamma mia che palla sto percorso no i secondi ce la puoi fare Len no no è arrivata eh però l'hanno fatto difficile mazza devo cioè voglio dire proprio un dito un vero bene meno male però che ci sono i secondi perché se no uno resta fermo magari una vita perché non riesce a passarlo e che cavolo cioè a questo punto meglio così eh no hai vinto ci ho provato ce l'ha messo ce l'ho messa tutta non ti esce sempre il vincitore sì 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 esce comunque però no no sei tu il vincitore questo qua si vede che adesso ti segnalo pure pure ho vinto anch'io che pezzo assolutamente assurdo facciamo l'ultima squadra dai è l'ultima ok una volta me la sento vinciamo vinciamo dai me la sento calla calla voglio ancora sportellata no perché hai davvero a me mi senti va ho una bella corsetta ancora una corsetta è che si è bloccato rovola in pista no intanto ci metto un po' a caricare ma questo è nuovo? no no c'è anche Lara Croft è vero in squadra con noi lo sapevo come lo sapevo lei è veramente pessima ed è rimasta indietro e ben gli sta guardate la velocità di questo fagiolo sempre colpa di Lara lo faccio notare che adesso è dietro guardatela guardatela aiutalo e adesso è avanti adesso è avanti io la devo raggiungere e devo darle una pistata ed ho vinto no no dopo tutta la cattiveria hai capito viene anche premiata te capi te capi sono arrivata dopo di lei ma di poco nonostante vi siete placate eh sì veramente se non fosse stato per Lara sarei arrivata come minimo prima Lara Croft si chiama Len Len si chiama? o Len vabbè comunque siamo fuori non so non ho guardato perché siamo fuori? no perché? siamo fuori ma siamo arrivati tutti è colpa di Lara ma cosa? non lei l'altra la Lara Croft che era in squadra con noi si 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 ma che si chiama Len tra l'altro? eh curiose cose accadono ma perché non so uscita? manco io eh devi uscire ma io ho fatto io ho detto ok eh perché non ti dà subito l'ok adesso devi farlo due volte però a me mi aveva detto che mi ero qualificata perché poi non ci siamo qualificati? perché si vede che come squadra appunto Lara Croft ci ha oh ma mi fai uscire? no vabbè non mi fa uscire no vabbè ecco io vi aspetto qui intrattengo il pubblico ecco a posto a posto allora chiudiamo qui? eh sì 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 vadi bene anche oggi è stato un successo dopo tanto tempo sì abbiamo vinto abbiamo vinto abbiamo fatto le mappe dei creatori molto particolari sì fin troppo fin troppo e niente io vi invito a vedere come sempre i punti di vista di Lara e Len che saranno molto spassosi specialmente per i placcaggi esatto io vi invito a fare lo stesso con i punti di vista di Dave e Lara anch'io anch'io stessa cosa ottimo e ci rivediamo un prossimo video allora ciao a tutti ciao ciao ciao